Ad inaugurare la nuova stagione di Belve su 9 con Francesca Fagnani è stato Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, nella puntata del 14 dicembre, non si è tirato indietro di fronte al fuoco di domande della conduttrice. Signorini ha prima spiegato che il trash è una chiave di lettura, poi a domanda diretta sulla D'Urso ha detto Se le piace? No, non mi piace. Perché? Perché non mi piace quel genere di televisione. Cioè, riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo, dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe, è un animale da diretta. Non mi piacciono certi suoi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori, certi suoi lacrime o farsi vedere casalinga dentro, quando poi insomma la realtà è ben altra. A questo punto, dopo queste dichiarazioni, arriverà una replica dalla diretta interessata.